Episodio 21 di Angular, oggi parliamo delle pipes. Cosa sono le pipes? Le pipe sono delle funzioni che possiamo utilizzare all'interno delle espressioni stringa, di base quando andiamo a fare string interpolation, ok? Quindi se vi ricordate abbiamo il nostro P in cui scriviamo delle cose, ciao, e poi dentro possiamo mettere se ce l'abbiamo ad esempio il nome, in questo caso qua non ce l'abbiamo, io ho creato numero prima di cominciare per scrivere una cosa tipo ciao mi devi e poi il numero, ok? Sarebbe mi devi 5, perché? Perché qua useremo ad esempio la currency type che è per le valute, quindi dollari, euro e quant'altro. Per cominciare facciamo una cosa un po' più semplice, utilizziamo il title, ce l'abbiamo qua e mettiamo ciao, benvenuti al, e qua dentro ci buttiamo il title ovvero corso Angular, salviamo anche qua e questo al momento è il risultato, togliamo qua. Con le pipe cosa possiamo fare? Innanzitutto come la mettiamo? Questa è una pipe, ok? Questo vuol dire questa stanghetta che è vicino all'1, è quella a sinistra dell'1, il primo tasto in assoluto sotto ESC della tastiera, questa è una pipe e vuol dire che adesso possiamo andare effettivamente a mettere delle funzioni pipe. Cominciamo a dare più semplici per farvi capire direttamente il funzionamento, ce ne sono alcune che sono così, senza altri tipi di parametri che possiamo aggiungere, vedete, uppercase me lo da già, se io salvo abbiamo la stessa cosa di prima ma scritta tutto in uppercase. Quindi che cosa fa questo uppercase? Andiamo a vedere, questo uppercase vedete che è una pipe che implementa pipe transform quindi va a fare una trasformazione e di base voi vedete tutta sta roba qua ma in soldoni prende quello che c'è qua dentro e ce lo mette completamente in uppercase. Un altro modo che potevamo fare era banalmente uno span a cui però avremmo dovuto associare una classe o quello che è e avremmo dovuto mettere ad esempio type transform tipo qua uno style avremmo messo un text transform uppercase una cosa del genere adesso qua ho sbagliato avremmo fatto uppercase così e sarebbe stata la stessa cosa solo che scrivere questo o magari mettere la classe qua uppercase class uppercase può essere un po' una rogna vedete insomma è una rogna rispetto a fare banalmente un title slash uppercase così non è slash my pipe uppercase e poi questo è solo un esempio l'uppercase lo possiamo fare col css le currency no ok quindi abbiamo determinate cose che non possiamo fare in css perciò capite che questo è un caso come potrebbe essere l'highlight la direttiva dell'highlight che si può fare col css ma se vogliamo far roba più complessa di così voi capite che non è la stessa cosa oltre al fatto che le pipe si usano anche ad esempio per le traduzioni quindi potreste avere ciao benvenuto al title e poi potremmo avere quale pipe per le traduzioni quindi avere anziché title ita potremmo avere title hang quindi potremmo usare anziché tutta sta cosa qua potremmo avere tutta la frase in benvenuto in inglese ok classico esempio in cui si può utilizzare se avete più lingue comunque uppercase lowercase vi faccio vedere le più comuni ce ne sono altre 3 o 4 oltre a queste già built in potete costruirvi le vostre non vediamo come costruirle secondo me non è essenziale per questo corso la possibilità che andrete a creare una vostra pipe finito questo corso è molto bassa andrete a fare altre cose perciò evito di darvi troppe info però quello che voglio fare è vedere almeno queste quindi uppercase e lowercase abbastanza banali andiamo invece sulle date ok qui abbiamo la date pipe che ci permette di formattare la data in diversi modi in questo caso potremmo anche scriverlo a mano direttamente però facciamolo prendiamo una data e facciamo che today quindi oggi anzi scriviamo in italiano oggi è uguale a date.now quindi adesso ok io salvo mandiamo a schermo oggi senza scrivere benvenuti al togliamo qua salviamo e questo è il now in timestamp ok quindi ovvero quanti secondi sono passati se non mi sbaglio dal primo gennaio 1970 che è quando timestamp comincia a contare quindi quanti secondi sono passati da quel momento facendo il conto si sono passati così tanti secondi chiaramente siamo nel ve lo dico subito oggi è l'8 agosto tipo quindi siamo all'8 agosto a tot ore probabilmente quasi le 5 di pomeriggio ok? ora però questa cosa qua è abbastanza illegibile io lo so perché chiaramente so quando sto registrando ma chi è che si metta a contare obiettivamente? nessuno quindi vogliamo formattarla un modo facile per formattarlo uno potrebbe dire eh beh ma fai una funzione che lo formatta perché fare una funzione qua dietro che mi formatta questo tipo oggi formattato e andiamo a fare tutte le varie cose quando abbiamo una banale pipe ci teniamo il dato grezzo che è quello che ci interessa semplicemente nelle varie casistiche qua lo formattiamo con giorno mese anno qua sotto invece lo formattiamo solo con l'anno oppure lo formattiamo con lunedì virgola eccetera eccetera ok? quindi giusto per farvi capire in questo caso facciamo date salviamo e questo è il risultato banale ok? quindi agosto 8 2022 possiamo utilizzare altri tipi di pipe quindi possiamo aggiungere dei valori in questo caso potremmo scrivere medium e avremmo agosto 15 2022 con l'orario dovrebbe essere eccolo qua perfetto abbiamo anche short time ad esempio che ci fa vedere solo l'ora oppure possiamo anche formattarlo direttamente con minuti e secondi salviamo e vedete che abbiamo questo risultato ovvero minuti e secondi facciamo qualcosa di un po' più azzardato mettiamo le ore due punti e vi posso garantire che è corretto per quanto riguarda la formattazione fate riferimento alla documentazione delle date pipe se cercate angular date pipe vi esce tutta la documentazione con scritto come potete trovare la data completa la data lunga come prendere il singolo giorno come prendere il giorno col nome insomma sono veramente qualcosa come un centinaio forse di righe di documentazione non ne vale la pena vediamo quella che potrebbe essere una data classica magari una data short molte sono già sotto questo nominativo short medium eccetera perché perché sono alcune tra le più usate questo però non vuol dire che voi non potete mischiare adesso vi faccio vedere short ci da questo vedete giorno mese anno in realtà è mese giorno perché in americano dovreste metterla in locale praticamente con l'ora ma nessuno ci vieta di fare una cosa del genere ad esempio dei slash m oppure m m per avere il nome del mese ok slash facciamo così per l'anno facciamo l'anno lungo e poi mettiamo virgola no possiamo fare anche altro possiamo mettere un trattino banale potete fare quello che volete lì e andiamo a mettere ora minuti e secondi salvo e il risultato è il seguente 8 agosto 2022 chiaramente queste qua le ho messe io potreste non averle giustamente ok facciamo così e se salvo ho un qualcosa di un po più leggibile ok quindi per le date fate riferimento a documentazione perché c'è sempre tanta roba alcune cose le imparerete a memoria a volte ve le dimenticherete non è un problema andiamo avanti altre facili sono decimal pipe e percentage pipe come potreste immaginare la decimal pipe cosa fa ci permette di mettere i decimali in questo caso abbiamo numero che è 5 perciò potremmo fare così e qua ci spariamo un bel number così perfetto salviamo e abbiamo il nostro numero ma i parametri che possiamo andare a settare in aggiunta sono due punti apriamo possiamo mettere quanti numeri per gli interi minimo ok in questo caso 2 eventualmente punto e mettiamo 2 trattino 4 facciamo così salvo e che cosa è successo abbiamo due numeri interi se ci fate caso che è questo portiamo la 1 e vedete che cambia quindi minimo 1 se non c'è un altro decimale non ce l'aggiunge ok se fosse 10 avrebbe messo 10 ma prima che hanno messo 2 ci ha messo lo 0 davanti non siamo obbligati ma io l'ho fatto questo qua dietro chiaramente è il decimale e possiamo scegliere possiamo dirgli minimo un decimale oppure minimo due decimali massimo 4 decimali quindi un pi greco arriverebbe a essere eventualmente fino a 4 ok se io salvo ho questo risultato che è 2 proviamo a mettere 0 chiaramente 5 non ha nessun decimale perciò non ha niente ma se vado qua a mettere un bel punto si fermerà al quarto quindi dovrebbe essere 93 ce lo dovrebbe anche arrotondare a 94 vediamo ed è esattamente quello che ha fatto ok quindi la bellezza delle pipe che ci permette di gestire velocemente questo genere di cose e vi ripeto potete farli anche voi a mano potete crearvi le vostre pipe per la percentuale non c'è molto da dire ci basta mettere percent potremmo mettere solo percent oppure possiamo fare le stesse cose quindi quanti interi minimo decimale massimo decimale salviamo è esattamente la stessa cosa non cambia assolutamente niente perfetto quindi siamo a posto arriviamo alla currency pipe che può essere interessante e la currency pipe si utilizza con currency senza niente perfetto salvo questo risultato 5 dollari ce li mette di default anzi in realtà 5 49 scusatemi qua c'è un po di roba mettiamo solo 5 così il risultato è un banale 5 ma ci mette anche i decimali chiaramente perché ci sono anche i centesimi ora noi vorremmo magari metterlo in euro come facciamo allora ci mettiamo qua due punti e cominciamo a specificare che cosa vogliamo cominciamo a dire che vogliamo euro quindi salvo e vedete che siamo passati da dollaro euro ok poi un'altra cosa che potremmo fare vi rimando alla documentazione per tutte queste cose perché sono tante ok un'altra cosa è dire magari se vogliamo il codice euro o il simbolo quindi cosa potremmo dire potremmo dire code e ci scrive euro se non metto niente metto il simbolo altrimenti potremmo mettere simbolo e ci mette chiaramente il simbolo e lo specifichiamo eccolo qua altrimenti potremmo usare anche symbol narrow poi come altro parametro possiamo anche qua specificare che cosa i soliti numeri quanti interi potrebbe essere minimo due interi possiamo specificare quanti decimali minimo tre decimali quanti decimali al massimo mettiamo 5 io salvo e vedete che abbiamo questo risultato questa parte qua l'abbiamo già vista di base con decimal pipe e percentage pipe l'ho fatta apposta prima in modo che fosse abbastanza chiaro in realtà c'è un'altra proprietà che possiamo utilizzare che appunto la locale ok l'ho già chiamato che non è la polizia ma locale vuol dire che possiamo fare un giro abbastanza ampio non ve lo faccio vedere adesso perché è molto lungo ma noi possiamo dire alla nostra applicazione di prendere tutte quelle impostazioni locali ovvero dice ah ok sei posizionato in italia allora ti metto la currency italiana che è l'euro ti metto la data in formato italiano quindi giorno mese anno e non mese giorno anno eccetera eccetera per quanto riguarda il locale quando parlo di locale intendo appunto questa cosa qua quindi dire all'applicazione di prendere quello che è il valore locale dell'utente ok non lo vediamo è roba avanzata sappiate che eventualmente è un'opzione quindi anziché fare voi le cose a mano anche le date eccetera potete dire a un certo punto guarda prendile tu automaticamente ok semplicemente non le vediamo queste sono le pipe ripeto queste sono alcune delle built in ce ne sono tipo 3 o 4 aggiuntive che non valeva la pena vedere e le potete generare voi le pipe sappiate che le potete costruire non ve lo faccio vedere perché ripeto mi sembra una cosa abbastanza inutile al momento non vi serve in primis e in secondo luogo vi va ad aggiungere troppa troppe informazioni al momento le cose su cui vi conviene concentrarvi sono le cose fondamentali per cominciare a fare applicazioni come si deve cominciare a divertirvi quando poi avrete abbastanza dimestichezza potete andare ad imparare quelli che sono i dettagli finali e migliorare la vostra la vostra conoscenza questo è quanto sotto in descrizione trovate link al secondo canale sito e come supportare il canale io vi ringrazio e alla prossima ciao ciao